Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, si è recato sui luoghi dell'alluvione. Il governatore ha visitato in particolare Scordia, il territorio più colpito della scorsa settimana. Dopo un confronto sulle criticità emerse, è stato definito un cronoprogramma di iniziative e interventi a breve e medio termine. Gli uffici preposti completeranno a giorni la ricognizione dei danni da trasmettere a Roma per il riconoscimento della calamità naturale e la conseguente dotazione finanziaria, con particolare attenzione al Ministero dell'Agricoltura. La struttura con il dissesto idrogeologico, assicurato Musumeci, collaborerà con gli altri enti a una pianificazione delle aste fluviali di tutto il territorio comunale di Scordia. Prima di raggiungerla, il presidente della regione ha compiuto un sopralluogo in alcune aziende colpite dall'alluvione nell'area commerciale di Mister Bianco. Il governo regionale, per evitare nuove criticità, ha finanziato le operazioni di pulizia di quei corsi d'acqua della Sicilia che in presenza di eccezionali eventi atmosferici si trasformano in trappole mortali, così come purtroppo è già avvenuto, Palazzo d'Orlean ha deciso di destinare attraverso la struttura commissariante il Palazzo d'Orlean ha deciso di destinare attraverso la struttura commissariale antidissesto idrogeologico guidata dal governatore quasi 16 milioni di euro a un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'alve ai fluviali. Il budget necessario è stato stimato e ammonta 34 milioni di euro e dovrebbe arrivare dalla Protezione Civile Nazionale alla quale, a breve, verrà inoltrata la relativa richiesta.